Un pisticcese su quattro in pratica l'ha votata facendola entrare per primo al turno di ballottaggio, un commento il primo. Ringrazio innanzitutto chi mi ha votato, spero che altri si raggiungeranno al ballottaggio e ritengo che quando fatto da noi sia stato premiato. Quello che abbiamo fatto non è poco, abbiamo cercato di portare avanti un discorso nuovo, un discorso diverso per quanto riguarda l'autonomia stessa del nostro gruppo e quindi ritengo che quando ho detto all'agenda penso che sia stato capito e ci abbia premato. Qualcuno diceva alla vigilia che poteva essere un primo turno in grado di rappresentare una sorta di primaria all'interno del PD. La vicenda è nota, lei è con il forum, ma si sente del PD e siete in una linea di pensiero diversa dalla segreteria comunale. Badursi è col PD, le definiva griffato, però potrebbe entrare, ha più chance di entrare a questo punto al ballottaggio con lei. Insomma queste primarie del PD continuano anche al secondo turno. Beh, i dati non sono definitivi, meglio aspettare quindi e poi ne parliamo. E comunque al di là di questo dato sarà una lotta interna al centro-sinistra perché è in corsa anche la Florio, anche la candidata Florio è collegata a una lista che è nel centro-sinistra regionale. Centro-sinistra Pisticci nella somma dei tre candidati in coalizione fa il 60%. Resta il rammarico di non essere andati insieme perché questo avrebbe significato senz'altro la vittoria del centro-sinistra. Noi ci siamo adoperati per realizzare questo, purtroppo non ci siamo riusciti. Speriamo adesso di far venire insieme a noi quando più gente possibile del centro-sinistra insomma, per poter vincere le elezioni. Che si definisca il secondo concorrente su Badursi o sulla Florio, lei dai vertici di partito si attende qualche segnale, una risposta, qualche tipo di comportamento? Parliamone dopo, vediamo un po' chi arriva al ballottaggio e poi ne parliamo. Beh insomma questa è la priorità, come vi preparate al ballottaggio? Ci sarà anche un appello a qualche candidato sindaco che non è più in gioco? Voi cederete qualche disponibilità? No, visto che non è una sola persona che decide da noi, ma visto che è un gruppo che decide da gruppo e da poco, quindi sappiamo questi risultati. Ci vediamo domani e le dico domani come va la situazione.